Quest'anno si rinnovano i comites, i comitati per gli italiani all'estero. Si vota per corrispondenza. Il plico elettorale verrà inviato ai soli elettori che abbiano fatto arrivare al proprio Consolato la richiesta di votare entro il 18 marzo 2015. Le schede votate dovranno pervenire al Consolato entro le ore 24 locali del 17 aprile 2015. Consolato la richiesta di votare.